Quanti hanno la corriera all'orario giusto? Quanti magari finiscono rientro alle 4 e hanno la corriera alle 5 e mezza? Sono un'ora e mezza di studio ora. Non so quanti di voi siano entusiati a studiare, ma bisogna farlo. E un'ora e mezza fa comodo a tutti. Quello che chiediamo noi come rete degli studenti è come mai da 230 euro per tutti nel 2010, oggi si paga 500, 400, 300 euro, più 138 euro per le navette ragazzi. Questa cosa che vedete lì succede solo in provincia di Belluno. Il 40% di voi, dei vostri compagni, deve pagare per venire a scuola. Questo cosa vuol dire? Che se il 40% spende 500 euro in più per venire a scuola, ha 500 euro in meno per fare altro. Da garantire a tutti quanti gli stessi diritti, perché ovviamente se una famiglia di agordo ha tre figli che deve mandare a scuola a Belluno, va fuori lo stipendio di due mesi. Ha messo in concesso i genitori che hanno ancora un lavoro. Meno costi, più servizi. L'11 ottobre ci ritroviamo ancora una volta tutti in piazza per manifestare. Siamo pronti a far ripartire il futuro da noi. Siamo pronti a ripartire. La provincia di Belluno è una provincia molto grande e gli studenti vanno a scuola principalmente nel capoluogo, ad Agordo o a Feltre. Per cui scuole come il liceo classico che ci sono solo in capoluogo o a Feltre, gli studenti di Agordo devono prendere la corriera per venire. E quindi quello delle corriere è un problema veramente molto sentito, visto che fino al 2010 si pagava 230 euro e oggi si arriva a pagare anche 500 euro, alla cui va ad aggiungersi il costo 138 delle navette che fino a due anni fa erano gratuite. In più i costi della scuola sono esorbitanti perché adesso con la nuova riforma i libri sono tutti in metà in formato digitale, quindi vanno comprati nuovi. Ovviamente il tetto libri sarebbe di 300 euro in media per le scuole, ma spesso viene scorato. Abbiamo deciso di non dare questa protesta a una connotazione puramente di piazza perché riteniamo che sia un tema su cui possiamo ottenere molto e soprattutto su cui dobbiamo ottenere molto. Grazie.